Ciao a tutti sono giornalismo del Cuore Italia 1, benvenuti alle ultime notizie di oggi Il papà dell'atleta paralimpico avrebbe smesso di seguire la principessa sui social, il problema è che non è chiaro cosa sia effettivamente accaduto Anche se il GF VIP è terminato ormai da settimane, proseguono i gossips piccioli sugli ormai ex concorrenti della casa e sui loro rapporti familiari e sentimentali A tenere banco quest'oggi è un rumor molto succosso, seppur piuttosto controverso, che vede come protagonista assoluto Franco Bortuzzo Il papà di Manuel Bortuzzo, infatti, avrebbe compiuto uno sgarbo, se così lo vogliamo chiamare, nei confronti di Lucrezia Lulu Selassie Ma come, direte voi, proprio alla sua adorata Nora? Eppure non si parla d'altro su Twitter, e non solo, visto che Franco Bortuzzo attualmente non segue Lulu su Instagram A questo punto verrebbe da pensare, ma quindi? Questa dovrebbe essere una cosa rilevante? Diciamo che lo è, nell'ottica per cui oggi come oggi quando due VIP smettono di seguirsi automaticamente iniziano le indagini sui loro rapporti Smettere di seguirsi su Instagram significa per molti chiudere definitivamente i ponti, qualcosa che abbiamo visto molto spesso nel caso di rotture sentimentali eccellenti In un primo momento, in base ai primi gossip, sembrava persino che Franco Bortuzzo non solo avesse smesso di seguire Lulu, ma che l'avesse persino bloccata Quest'ultima informazione, tuttavia, è piuttosto difficile da verificare Sono tutte soffiate, quelle di cui vi stiamo parlando, segnalate da alcuni utenti alla regina del gossip dei Anira Marzano, che però si è limitata a riportarle senza permettersi di commentarle Come riportato anche da Novella 2000, a cercare di far chiarezza sulla vicenda sono stati i fan della coppia Alcuni, in particolare, hanno sottolineato come un mancato follow non sia un segnale di alcunché di rilevante Altri invece hanno avanzato che tutto potrebbe dipendere da un problema di Instagram Di certezze al momento ne abbiamo due La prima, non ci risultano rapporti deteriorati fra il padre di Manuel Bortuzzo e Lulu, o perlomeno nessuno dei diretti interessati ha fatto cenna la cosa Secondo, Franco Bortuzzo, e lo potete verificare anche voi, effettivamente non segue Lulu su Instagram In effetti, il sospetto che ci sia qualcosa di strano è legittimo, fra i profili seguiti da Bortuzzo padre troviamo, fra gli altri, moltissimi degli ex inquilini della casa, fra cui Jessica Selassie, sorella di Lulu Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video